Siamo a Marina di San Lorenzo con il capogruppo della squadra di marcia cinese. Che si chiama? Che chiama? Sono il cittadino e il cittadino e il cittadino. Sarete qui per diverse settimane e il 21 si celebra il capogruppo cinese. Come funziona? Questo è un anno più speciale, perché abbiamo venuto a San Lorenzo. Questo anno è molto speciale, perché noi abbiamo staccato tre anni e non siamo più venuti dal 2020. Quindi quest'anno per noi è molto speciale, perché dopo tre anni. Grazie a San Lorenzo che ha accettato tutto il nostro alivio. E poi devo ringraziare anche all'hotel che ci ha offerto tutto disponibile. Allora, noi andiamo a comprare delle speciali alimentari cinese in negozio e loro ce lo preparano. Poi loro preparano anche la cena appuntante per noi. Grazie all'hotel e grazie a San Lorenzo. Quest'anno è l'anno del coniglio. Come funziona il capodanno cinese? Come anni di coniglio, perché come anni di coniglio abbiamo messo in lingua della 12 animali in quarto posto. In quarto posto corrisponde a Ola verso al 4 o 5 della mattina, perché quella Ola lì con il coniglio si escono per mangiare la sua prima colazione. Diciamo colazione, ma in realtà non so se si è chiamato giusto. Per quello che quest'anno era quattro animali della lingua di 12 animali. Come si dice buon anno in cinese? Come si dice buon anno in cinese? Come si dice buon anno in cinese? Buon anno. Per noi si chiama festa di primavera, però pure il capodanno perché l'anno è inizio da primavera. Per quello. Siamo con Sandro Damilano, allenatore della squadra di marcia cinese. Dopo due anni ritorna a Marina di San Lorenzo. Come sta andando e come siete organizzati? Beh, intanto diciamo che siamo ritornati qui finalmente a Marina di San Lorenzo dopo due anni. Siamo purtroppo stati fermi per il Covid. Loro non hanno potuto venire in questo periodo in Italia. A noi ci serve molto perché la nostra base è saluzzo e in questo momento è freddo. Quindi qui ci si può allenare in tutta tranquillità e devo dire che quest'anno sono veramente soddisfatto di come stanno andando gli allenamenti e di come si stanno allenando i ragazzi. A parte il piccolo inconveniente che in un gruppo formato da sette persone c'è sempre perché c'è un ragazzo infortunato che è fermo, gli altri stanno molto bene. Ora sabato svolgeremo un test così vediamo veramente come stanno andando le cose in base ai tempi. Ma sono convinto che si è lavorato bene. Qual è il primo appuntamento sportivo importante? Noi abbiamo il 29 gennaio una gara in Sicilia a Milazzo dove dopo il test che ho detto di sabato vedremo di mettere a posto tutti i piccoli particolari perché dopo al 13 febbraio ritorneranno in Cina per svolgere la selezione cinese che è una selezione sempre molto difficile. Arrivare nei primi tre in Cina tante volte è più difficile che le grandi manifestazioni dove c'è la selezione per qualificarsi per i campionati del mondo ad agosto a Budapest e soprattutto per loro molto importante i giochi asiatici che quest'anno si svolgeranno a fine settembre in Cina. Quindi sarà una gara molto sentita, molto particolare e molto difficile.